Un cordiale saluto, ben trovati da Tu per Tu, la trasmissione di Trentino TV realizzata in collaborazione con il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento. Siamo con il consigliere provinciale del gruppo misto Ugo Rossi. Ben ritrovato consigliere. Allora, parliamo di un argomento di attualità di questi tempi, ovvero le Olimpiadi. Ecco, c'è stato un grande clamore sul fatto che Pine non è più una delle località teatro delle Olimpiadi, in questo caso per il pattinaggio. La comunità è rimasta delusa, consigliere Rossi? Eh, lo credo bene che è rimasta delusa, perché il problema non è solo la figuraccia che si fa, perché, lo dico subito, Io non sono contrario alle Olimpiadi, anzi, le Olimpiadi in Trentino ci sono, perché questa decisione è stata presa con la mia giunta, la lettera con cui abbiamo chiesto di poter partecipare anche noi, assieme al Veneto e alla Lombardia e all'Alto Adige, è firmata da Ugo Rossi, quindi figurarsi se sono contro le Olimpiadi. Però erano le Olimpiadi della sostenibilità, cioè del fare le cose cercando di non sprecare risorse. Io, cosa ho fatto in questa legislatura, nel mio piccolo, fin dal 2019 ho capito che a Baselga di Pinè le opere che si pensavano di fare erano sovradimensionate. E allora ho fatto provare un ordine del giorno in Consiglio Provinciale, che è stato votato da tutti, anche da Failoni e da Fugatti, nel quale, di fronte a una spesa di 35 milioni di euro per il rifacimento della struttura di Baselga di Pinè, io chiedevo, e la giunta si è assunta l'obbligo, di verificare se non fossero praticabili delle soluzioni meno impattanti, dal punto di vista, soprattutto, dei costi. Cosa si poteva fare? Innanzitutto si poteva verificare subito, con il Comitato Olimpico Nazionale e Internazionale, se si potevano fare le gare con la struttura scoperta. Si sarebbero risparmiati un sacco di soldi, è già avvenuto nella storia delle Olimpiadi che abbiano fatto quelle gare con la struttura scoperta. Se avessero detto di no, c'era l'ipotesi allora di Milano che voleva ospitare nei suoi palazzetti questo tipo di gare. È chiaro che a quel punto sarebbe scattata fin da subito un ragionamento trasparente e sincero con la comunità di Pinè, dicendo, abbiamo pensato che è troppo costoso, non vale la pena, investiamo invece delle risorse per riqualificare la vostra area, il lago, le ciclabili e quant'altro, e diamo a Pinè la possibilità di essere un polo attrattore di turismo assieme alla città di Trento, essendo molto vicina alla città, dando una possibilità di sviluppo. Ma questo andava fatto quattro anni fa? Non andare avanti da 35 e sono arrivati a 50, poi adesso ci dicono che sono 70. hanno fatto approvare dal Consiglio Comunale di Vaserga di Pinè a fine novembre, quindi due mesi e mezzo fa, un progetto e poi adesso dopo due mesi vanno su e gli dicono che il Comitato Olimpico non vuole e che allora non si può più fare. Ma vi rendete conto che questa si chiama prendere in giro le persone? Per me la cosa più grave è che non abbiano detto la verità, perché quando hanno fatto approvare quel progetto a novembre sapevano perfettamente che le Olimpiadi non sarebbero arrivate e invece continuavano a insistere dicendo che si facevano. Adesso è chiaro, è ovvio che Pinè ha ancora più diritto di poter disporre di risorse, l'importante è che non pensino di utilizzare queste risorse per fare delle altre cattedrali nel deserto che evidentemente da sole non fanno il bene della comunità di Pinè. Vedremo dunque che cosa succederà, ne parleremo sicuramente ancora. Parliamo di un altro argomento, il traffico sull'asse del Brennero. In questi giorni c'è stata una polemica molto accesa anche a livello nazionale. Consigliere Rossi. Sì, sono problemi complessi che non si possono affrontare con le polemiche evidentemente. Qual è il tema? Il tema è che il nostro è un territorio delicato, è delicato qui da noi, è delicato di là dal Brennero. Valli strette, un territorio di montagna, passano un sacco di camion che sono i camion di tutta Europa. Il Tirolo da tanti anni cerca di ridurre questo carico attraverso dei limiti di velocità e attraverso dei limiti alla circolazione nelle ore notturne e per i camion particolarmente inquinanti. Lo fa perché? Perché gli stati nazionali non riescono a fare da soli delle misure adeguate. Sta facendo il Tirolo un'operazione un po' esagerata dal punto di vista delle regole e quindi bisognerebbe agire insieme, questo è vero, però non è certamente un problema che si risolve pensando di dire adesso all'Europa, come fa il Ministro Salvini, che fino a ieri l'Europa non la considerava, adesso va in Europa a chiedere che l'Europa faccia una procedura di infrazione contro l'Austria. Così domani mattina l'Austria può inventarsi di chiedere su qualsiasi altra cosa dove l'Italia è in ritardo di fare procedure di infrazione contro l'Italia, non è così che si risolvono i problemi. Per fortuna che in sede di Euregio, cioè l'unità fra Trentino, Alto Adige e Tirolo, i tre governatori, e qui voglio spezzare una lancia a favore del comportamento del Presidente Fugatti, hanno invece chiesto, al contrario di quanto dice Salvini, di prevedere una possibilità di concordare insieme delle misure. Perché? Perché queste misure servono anche a noi, però bisogna dire la verità agli operatori economici. Anche da noi bisognerebbe fare dei limiti alla circolazione, perché il carico di inquinamento è troppo alto, questo è certamente perché provoca un problema per gli operatori economici, però è un problema che va affrontato. Introdurre dei pedaggi per cui chi più inquina più paga, ma soprattutto introdurre delle modalità per cui il traffico è regolato con degli ingressi contingentati che naturalmente però provocano la necessità che il sistema dei trasporti si riorganizzi. Ecco, così facendo si può fare una cosa che tutela l'ambiente e il nostro possibilità di vivere con tanto carico di traffico. Come fa il Tirolo, ma facendolo insieme. Non è certamente pretendendo che l'Europa faccia la procedura di infrazione all'Austria, come vuole Salvini, che si risolvano i problemi. Non abbiamo altro tempo a nostra disposizione, grazie al consigliere provinciale del gruppo misto Ugo Rossi di essere stato con noi. Grazie a voi di averci seguito, è tutto per questa puntata. Alla prossima, arrivederci. Grazie a tutti.